L'invicta continua a dettare la sua legge e riesce ad uscire vittoriosa anche dal parquet di Cefalù, dove conquista matematicamente il primo posto in vista dei play-off di fine stagione, quando si affronteranno le rivali del girone A. La zannella Cefalù viene battuta per 63-74 da un'invicta temeraria, ormai sicura dei propri mezzi e consapevole del proprio destino. Appuntamento a domenica 5 febbraio al Palacannizzaro, dove la formazione Nissena affronta il suo affronterà la pallacanestro Sant'Agata. Basket Serie D, undicesima giornata del girone B. Basket Messina Virtus Trabani 69-59. Zannella Cefalù invicta 63-74. Sant'Agata Leonardo Da Vinci 78-70. Riposa Capobasket. La classifica. Invicta 18. Capobasket Zannella Cefalù 12. Sant'Agata 10. Leonardo Da Vinci 6. Virtus Trabani 4. Basket Messina 2.